Oggi vi faccio vedere degli esercizi di giocogliere con due palline. Iniziamo! Il primo esercizio è quello che dobbiamo fare lancio destro piccolo, lancio sinistro piccolo, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece facciamo lancio altro e prendo su accanto all'orecchio e poi sinistra, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece facciamo insieme uno, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece da qua facciamo lancio insieme tutti e due in alto e le prendo su, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece di qua facciamo lancio destro, scambio sottosinistro e riprendo con l'altra e poi sinistra, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece facciamo da lato, così, lato e scambio e poi sinistra, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso invece mettiamo le braccia così incrociate, una sopra e una sotto e il braccio che è su con la pallina dobbiamo lasciarla e prenderla sotto, così, così per dieci volte. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece facciamo lancio destra, lancio sinistra e riprendo e poi sinistra, così per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece lo facciamo per sotto la gamba. Dobbiamo mettere braccio destro, gamba sinistra, così, e gamba destra, così, da qui lancio destra, lancio sinistra e riprendo. E poi sinistra, così per dieci volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso vi faccio rivedere la sequenza, se magari non ve la ricordate. Lancio destra, lancio sinistra, prendo su, prendo su, lancio insieme, lancio insieme e prendo su, lancio scambio sotto, lancio scambio sotto, dal lato a lato, incrocio, incrocio, lancio destra, lancio sinistra, lancio sinistra. Lancio destro, lancio destro, adesso sotto la gamba, adesso sotto la gamba, adesso sotto la gamba, destra e sinistra. Adesso proviamo a farla di seguito. Lancio destro, sinistra, prendo su, prendo su, insieme, prendo su insieme, lancio e scambio sotto, lancio scambio sotto, dal lato a lato, poi da qua, incrocio, incrocio, lancio sinistra, lancio sinistra, lancio destro, sotto la gamba, sotto la gamba e fine. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e se volete lasciare un commentino fatelo sulla mia pagina Instagram, mi chiamo Carlina con la capa, ciao!